L'ecologia fu un termine che fu coniato per la prima volta nel 1869 da Arte Stegel che ne potò introdurre un vocabolo con il quale raccogliere tutti gli studi poliedrici sulla strategia per la sopravvivenza che poneva il discusso delle origini della specie. Il termine ecologia deriva da due parole greche, oikos che significa casa inteso come habitat e logos che significa studio. La disciplina ecologica studia appunto le interazioni tra gli organismi, i diventi che abitano la casa e tutti i fattori che concorrono a renderla abitabile come l'umidità, la temperatura, la concentrazione dell'energia carbonica. I primi ecologi erano soprannominati dagli altri scienziati come dei fisiologi da campo praticamente perché si spostarono dai laboratori in campo con tutta la loro metodologia proprio per scoprire e capire cosa realmente succedesse nell'ambito in cui gli animali interagivano. L'ecologia è una scienza ma è anche una disciplina che prende origine dalla biologia e si è, si ha le sue profonde radici appunto nella biologia e si è distaccata poi dalle scienze naturali. Infatti si occupa principalmente dello studio della vita e della sua funzione. In più un modo per identificare l'oggetto di interesse dell'ecologia è quello di considerare i livelli di organizzazione biologica visualizzati fondamentalmente in una società gerarchica si vede la cricetta? Inclusiva, in una gerarchia inclusiva dalle cellule fino all'ecosfera. L'ecosfera è appunto l'insieme dell'atmosfera, l'etosfera, l'edosfera e la biosfera appunto la nostra terra. L'ecologia si interessa maggiormente dei livelli di organizzazioni superiori a quelli dell'organismo, quindi dall'organismo fino al paesaggio che è dato dall'interazione degli ecosistemi perché al di sopra del paesaggio richiederebbe una conoscenza oltre diciamo le basi biologiche. La cosa interessante è che dal punto di vista funzionale non esistono delle linee di demarcazione nette tra i livelli. Perché questo? Perché lo spettro di funzioni che caratterizza un singolo livello è integrato negli altri livelli di organizzazione e questo è un aspetto molto affascinante perché per esempio il singolo organo non può sopravvivere come unità senza l'organismo e le comunità animali non possono sussistere per esempio senza il flusso di energia e il ciclo della materia e quindi che permette di costituire appunto l'ecosistema. Questo aspetto di gerarchia inclusiva è molto importante perché pone già la prima base sulla discussione sul perché l'uomo non si deve sentire superiore alla natura perché in questa gerarchia inclusiva vi è anche lui e quindi è oggetto facente parte appunto di questo sistema. Inoltre una fondamentale conseguenza dell'organizzazione gerarchica inclusiva è che la combinazione delle parti che compongono un livello può emergere nuove proprietà, contro le proprietà emergenti. Già ce ne parlava Aristotele. E l'approccio che utilizza per tutti questi motivi l'approccio che utilizza l'ecologia è di tipo olistico, cioè prende sempre in considerazione tutte le parti del sistema e non riduzionista. L'ecosistema è il primo livello completo e indipendente ed è appunto oggetto di studio per eccellenza dell'ecologia. Ci faccio un po' di più raccontarvi che cos'è l'ecosistema perché spesso viene utilizzato anche in maniera abbastanza errada o erronea e in maniera scorretta. L'ecosistema è definito un sistema in cui le popolazioni interagiscono appunto, chiamate comunità biotiche, insieme all'ambiente fisico ed energia che permettono appunto di mantenere questo sistema. Un modello per esempio è raffigurato qui nella slide, l'input di energia del sole permette appunto l'interazione tra gli autologi, quindi l'apprescimento della premassa vegetale con gli eterotrofi, il ciclo di clienti sostenuto da un flusso di energia. Fondamentalmente l'ecosistema è un concetto principalmente euristico, anche se reale, ma non è prevedibile perché spesso non è definibile proprio i confini di un ecosistema, spesso si parla di ecosistema lago, non si va oltre. E quindi non è un concetto assoluto, ma è una buona cornice dove effettuare appunto la teoria e quindi effettuare tutti gli studi che poi permessero all'ecologia di approfondire, insomma di nascere e di crescere. Ma come avviene il salto dai banchi universitari al pubblico? Cioè com'è che l'ecologia passa dall'università alle persone? Sicuramente questo momento va in coincidenza con la diffusione delle prime immagini della Terra, dallo spazio, che suscitarono immediatamente un forte impatto su tutta l'umanità, un impatto che permise alle persone di sentirsi facenti parte di questo sistema Terra e di volerlo in qualche modo preservarlo. Tutto questo supportato chiaramente dà le parole molto forti dei primi astronauti come Yuri Gagarin, che definisce la Terra bellissima e soprattutto senza frontiere e nei confini. Immaginiamoci una frase del genere in un contesto storico difficile, quale la guerra fredda, di dove era molto sentita la separazione. E ancora parlano di un puntino blu, fragile, insomma da preservare, parlano di Terra nostra, che era una cosa che non si sentiva. Questo permise di sviluppare i primi movimenti ambientalisti e soprattutto a partire da quel momento e per tutti gli anni 80 e 90, fino a giorni d'oggi, l'ecologia è entrata come vocabolo delle persone comuni, quindi è uscita dall'Accademia e soprattutto è entrata anche nelle agende dei politici, quindi come prime preoccupazioni. Di pari passo sempre agli squilibri sociali e questo è un aspetto che ci porteremo via via avanti per tutta la conferenza. All'inizio degli anni 70 assistiamo ad un altro evento molto interessante che è un meeting che si fece a Roma, chiamato il club di Roma, che riunì moltissimi scienziati, ma anche figure di rilevanza nel campo di materie umaniste, per cercare di capire quali fossero, di trattare proprio il problema del futuro dell'umanità. E la cosa interessante è che oltre a questo primo meeting, poi detto alle basi per altri, e soprattutto con una serie di scritti molto importanti, anche tecnici, però la cosa interessante è che identificavano uno dei problemi principali di sofferenza proprio per l'umanità, l'ossessione. L'ossessione delle società per la crescita, per cui ad ogni livello individuale, familiare, di gruppo, nazionale, l'obiettivo era diventare più ricchi, più grandi e più potenti, con poco riguardo ai valori umani di base, col costo finale del consumo non pianificato e senza restrizioni e dello stress per i servizi e i beni ambientali che supportano la vita. Quindi di pari passo la voglia di voler si arricchire in maniera individuale che andava a ricadere poi sul benessere comune e anche sullo stress che si inventava sui servizi e i beni ambientali. Oltre a questo però propongono una soluzione poco tempo fa, uno tra i tanti, è la più affascinante al nostro avviso perché di solito nei congressi non si parla mai di maniera più semplice, si discute sempre su aspetti tecnici, questo è giusto, però loro hanno riscoperto un aspetto importante che viene sempre tralasciato come soluzione. Il mondo raccontano, ha bisogno, scrivono che ha bisogno del vecchio e tradizionale amore che permetta alle persone di lavorare insieme per cause comuni. Noi l'amore l'abbiamo visto come un legame molto forte e come qualsiasi altro sentimento è la chiave che ci permette di sentire l'altro. Sentire l'altro vuol dire anche sentire il mondo che ci circonda e quindi sentire questa connessione. Ci piaceva raccontarvi questa potenza del legame con un video che ha fatto Francesco Ndos che racconta proprio quello che c'è dietro un contatto e quindi dietro un legame. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Come scoprire questo legame e questo contatto che ci viene uniti? sicuramente dobbiamo imparare ad ispirarci e ad ispirare come hanno fatto quelle immagini della terra, come fanno molti di video che ci arrivano o come fanno anche le altre persone stesse. Dobbiamo forse imparare di nuovo ascoltare e lasciare andare l'ispirazione che potrebbe essere appunto la parola chiave di nuovo a quella evoluzione di coscienza collettiva che si creò con quelle immagini della terra nella terra nella terra nella terra nella terra. Però l'ispirazione sola non basta e lascio la parola. appunto dopo gli anni 60, quindi dopo questo primo periodo di forte ispirazione in cui l'ecologia quindi è sfociata anche nella società e ha ispirato, tuttavia con il boom economico iniziò a subentrare nella società una nuova concezione, una concezione economica e quindi un maggiore individualismo delle persone e anche un maggiore egoismo da parte degli stati, da parte della società verso l'ecologia che veniva accantonata nonostante ci fosse stata un'ispirazione iniziale. In questa slide vogliamo proprio mettere in evidenza come l'economia e l'ecologia abbiano una matrice diversa, sebbene una stessa radice semantica, ossia o i costa e casa tuttavia l'economia riguarda l'amministrazione della casa che è ben diverso dal suo studio. Infatti possiamo vedere le differenze principali, quella più immediata è quella dell'unità di misura, l'economia si misura in denaro mentre l'ecologia è in energia. Inoltre i servizi da cui tracono sostentamento per l'economia sono il capitale economico mentre per l'ecologia è il capitale naturale, quindi l'energia. Infine l'uso delle risorse per quanto riguarda l'economia è lineare e vi è un sviluppo sponenziale, quindi volto sempre a qualcosa in più, all'attrescimento continuo mentre per l'ecologia è circolare, quindi c'è un riciclo delle risorse che mantiene un equilibrio quindi si arriva a una capacità importante, sostenibile dal sistema naturale che porta a un equilibrio. Infine l'obiettivo dell'economia è quello dell'esplorazione e dell'espansione continua, mentre per l'ecologia appunto è la stabilità e la sostenibilità. Tuttavia all'economia pian piano si affiancò al concetto di ecologia poiché comunque il forte egoismo e la forte inoccuranza hanno portato sia alla società, quindi le persone sia agli stati a vedere degli svolti ambientali gravosi che quindi minavano la stessa economia. Quindi si iniziò a parlare di una green economy, quindi delle scelte economiche, delle scelte statali, delle scelte sociali che tenevano conto degli aspetti ambientali e degli ecologici. Tuttavia molto spesso, inizialmente fu uno specchietto per la logica perché comunque questo risvolto green era più volto a soddisfare la secondaria dominione pubblica che è molto a prendere delle decisioni veramente consapevoli riguardo l'ambiente. Mentre ultimamente la parola chiave è sustainable, quindi un'economia sostenibile che prende decisioni realmente efficaci e volte alla salvaguardia dell'ambiente e anche alla coesistenza ovviamente perché la sostenibilità non esclude il progresso economico e tecnologico. Le persone che iniziarono appunto ad avere questo tipo di concezione, questa concezione di preservare, di conservare furono le world people. Questa distinzione tra world people ed ecosystem people l'abbiamo tratta da Walden.ro, che è un libro della fine del 1800 e quindi è una persona molto all'avanguardia. Le world people sono persone che vivono e vivono soffrendo di prodotti, di sistemi naturali, ma tuttavia non vivono all'entrata dei sistemi naturali, come possiamo essere noi, quindi persone che vivono in civiltà industrializzate. Quindi perdono la coscienza diretta del funzionamento del sistema, ma tuttavia vivendo dei prodotti, molto spesso anche del surplus e dei prodotti, riescono a capire come sia importante il concetto di conservazione di quel surplus. Al contrario delle ecosystem people, che sono persone che vivono all'interno del sistema e che vivono della sussistenza dei prodotti principali di quel sistema, sono consapevoli del suo valore, ma non hanno una visione di conservazione, perché loro non hanno, questo è un esempio degli abitanti del terzo mondo. Quindi appunto il concetto di conservazione nasce da noi, che probabilmente ce lo possiamo permettere e abbiamo anche i mezzi per portarlo avanti. Quindi nasce la biologia della conservazione, che è una branca della biologia e nasce anche quindi il concetto di gestione dell'ecosistema. Questa gestione dell'ecosistema diventa adattativa, ossia non è rigida su schemi esclusivamente scientifici, ma riesce a integrare vari ambiti, l'ambito socio-economico molto importante e indispensabile, l'ambito ovviamente ecologico, quindi dei principi ecologici e scientifici, ma anche l'ambito istituzionale, poiché è molto importante l'interazione tra queste tre sfere, in cui l'uomo è pienamente dietro, mentre molto spesso quando si sta parlando di principi ecologici sembra un'utopia, con queste tre prospettive l'uomo si fanno risaltare anche i valori umani, i valori della società umana, non solo i valori ambientali, e si crea un'interazione tra uomo e natura. Un esempio di biologia della conservazione è quella della riproduzione del lupo nel Nord America. Il lupo fu introdotto in Nord America nei parti nazionali e andava un po' contro le antiche visioni, quello che il lupo era cattivo, che era un competitore per le risorse con l'antagonista dell'uomo, perché grazie a questa rintroduzione si valorizzarono i valori importanti per l'uomo, che quindi aveva un diretto riscontro anche economico, poiché comunque è del più valore il parco, perché comunque il lupo era un animale metasmatico, una figura che anche il turista, per cui anche il turista è attratto. Inoltre proprio in ambito scientifico, essendo un predatore terminale, ha diminuito il numero delle prete, degli ugolati, che erano i vivori, e la diminuzione degli erbivori ha causato un aumento della biomassa vegetale e anche un aumento della biodiversità, poiché c'erano meno competite per i dettagli e quindi sia la vegetazione sia altri animali hanno potuto riabitare questo habitat. Quindi questo è un esempio di utilizzo della gestione dell'ecosistema con una missione a lungo termine. questo è molto importante e distingue l'ecologia dall'ecologismo, poiché sebbene l'ecologia sia una branca della scienza, l'ecologismo è una corrente sociale, possiamo dire, che non sempre si basa su principi scientifici, ma molto spesso si basa sul sentimentalismo e può portare anche a fenomeni di fanatismo. Infatti l'ecologismo molto spesso prescinde dai legami intrinseci che ci sono tra uomo e natura e quindi non mette l'uomo all'interno della natura, ma lo mette fuori come esclusivo protettore e non capisce che anche i propri valori dell'uomo e c'è un tornaconto diretto sia personale, sia economico, sia di società con il preservare la natura. Inoltre l'ecologismo ha una missione a breve termine degli atti e fatti che porta avanti, mentre l'ecologia ha una missione a lungo termine, come può essere l'esempio dell'uomo, che quindi l'azione diretta ha una causa sia a lungo termine sia un ampio spazio. Un esempio di atti ecologisti a breve termine è quella della liberazione del visone in Italia, che gli animalisti appunto hanno liberato, quindi visoni dalle aziende che producevano bellice, dagli allevamenti, e che sebbene come principio può essere condivisibile, tuttavia l'hanno liberato e l'hanno liberato nell'ambiente. Il visone, che non è un animale italiano, quindi si è evoluto in Italia, ha creato dei danni all'ambiente e agli animali indenici italiani, gravissimo, infatti è uno delle più gravi, delle più grandi problemi di specie alieni che sia in Italia sia tuttora. Inoltre appunto la parola chiave dell'ecologia e sostenibilità, quindi l'interazione tra le attività umane e la natura. Invece l'ecologismo molto spesso vuole eliminare l'attività umane e vuole tornare solo alla natura incontaminata. E questo proprio perché non tiene conto dell'equilibrio ecologico e sociale che si deve creare. Per chiarire ancora di più le differenze tra ecologia e ecologismo, riprendono un po' le parole di Silo. Vi leggiamo adesso la sesta lettera che riguarda proprio l'ecologia e l'ecologismo. Anche in certe correnti ecologiste devianti succede qualcosa d'analogo, visto che privilegiano la natura rispetto all'uomo. Esse non sostengono più che il disastro ecologico è propriamente tale perché mette in pericolo l'umanità. Lo è perché l'essere umano ha tentato contro la natura. Secondo alcune di questi correnti, l'essere umano è un essere infetto che in quanto tale infetta la natura. Per loro sarebbe stato meglio che la medicina non avesse avuto alcun successo nella lotta contro le malattie per provocare la vita. Prima la terra, urlano in modo esterico, richiamandoci alla memoria i problemi del nazismo. Da qui alla discriminazione delle culture che contaminano degli stranieri che sporcono e inquinano il posto a breve. Anche questi correnti rientrano nel campo dell'antiumanesimo, visto che alla loro base c'è disperso per l'essere umano. I loro mentori disperzano se stessi e in questo riflettono le tendenze di filiste e suicidi oggi di moda. Certo, uno stato consistente di persone sensibili aderisce a movimenti ecologisti, perché si rende conto di quanto siano grandi i problemi che questi denunciano. Ma se assumeranno, come sembra opportuno, un carattere umanista, i movimenti ecologisti indirizzeranno la lotta verso i responsabili delle catastrofe. Il grande capitale è la catena di industrie e le aziende distruttive, tutte strettamente imparentate in un complesso militare e industriale. Prima di preoccuparsi delle fuoche, dovranno preoccuparsi della fame, del sovraffollamento, della mortalità infantile, delle malattie, della carenza di abitazione e di strutture sanitarie, piaghe queste che affreggono tante parti della terra, dovranno dare l'opportuno risalto a problemi come la disoccupazione, lo sfruttamento, il razzismo, la discriminazione e l'intolleranza nel mondo tecnologicamente avanzato, quello stesso mondo che con la sua crescita razionale sta creando gli squilibri ecologici. L'ecologismo e l'ecologia hanno di base però delle domande fondamentali che l'uomo da sempre si pone, quali per esempio se l'uomo ha dei compiti o degli obli, perché quando sono detti, o delle responsabilità verso l'ambiente che ospita e se ha queste responsabilità, se sono uguali per le specie, cioè verso i propri simili o anche verso le altre specie, o se esistono semplicemente degli assoluti etici nelle sue relazioni con la natura, oppure tutte relative al soggettivo. Non ci sono delle risposte molto chiare a queste tre domande, sta di fatto che però l'attuale normativa ambientale ci pone una risposta definita in cui l'uomo industrializzante e l'ambiente sono dei problemi fondamentalmente disgiunti, in quanto per esempio i livelli di inquinamento ammissibili per la legge sono basati su valori i livelli annuali per proteggere l'ambiente, invece sono basati su valori di picco per proteggere l'uomo, ciò è giusto, però equivale a dire che per le specie animali e vegetali e quindi spesso anche, insieme a loro ci mettiamo anche le popolazioni indigene, si è disposte ad accettare un certo grado di rischio, ma non per l'uomo industrializzato. Il problema è che spesso gli ecologi non stanno abbandonando l'etica che l'ecologia ci insegna, l'etica ambientale, perché sfruttano molto di più argomenti ecologici e economici per salvaguardare la natura più che etici e questo sta diventando sempre di più un problema. Per noi sostanzialmente sfruttare oltre alla sostenibilità i sistemi di supporto della vita sul nostro pianeta dovrebbe essere considerato controlegge, oltre che non etico. Come etica ecologica ci piaceva riportare questa definizione di Andrew Leopold che appunto parla come etica ecologica una limitazione della libertà di azione nella lotta per l'esistenza umana, una limitazione che però non è restrittiva, cioè non è negativa, ma è una liberazione che ci permette appunto di sopravvivere, quindi permette l'esistenza di tutta l'umanità e questo è molto interessante. Andrew Leopold fu un biologo che visse più di vent'anni che vorresti in Nord America e ci fa pensare subito quanto un'azione libera e decisa di limitazione permette all'altro di sopravvivere e quindi quanto ancora una volta lo sfruttamento sociale e lo sfruttamento ambientale vanno di pari passo. E soprattutto quanto l'uomo deve fare questo cambiamento da padrone a guardiano e quanto ancora l'ecologo deve illuminare in questo perché seppur vero che si sente sempre valore il fatto che si vuole andare a conquistare un altro pianeta, insomma si studia l'universo per questo, è anche vero che l'uomo ancora non ha imparato la coesistenza con la natura, per cui è un compito che gli scienziati devono assolutamente prendere in mano. Quindi? Dall'ispirazione che abbiamo visto essere imprescindibile come input per poter creare un interesse verso l'ambiente, è altresì fondamentale la conoscenza, la conoscenza che quindi è deve avere consapevolezza e ci permette di avere i mezzi per poter affrontare i temi ecologici e anche farli affrontare alla società. Quindi questa conoscenza deve essere sia recepita dal singolo ma anche data e infusa da coloro che la studiano, quindi dagli scienziati. La consapevolezza ci giunge da valutazioni ecologiche che sono anche riscontrabili nella società, quindi da fenomeni che sono anche riscontrabili nella società. Ad esempio la cooperazione sappiamo che ha un valore sia nell'ecologia, quindi nei sistemi naturali, ma anche nella società. Infatti sappiamo che i momenti in cui si raggiungono i limiti, quindi i momenti di crisi, ha un maggior valore la cooperazione rispetto alla competizione. Inoltre è necessario un approccio listico, come abbiamo già spiegato, quindi un approccio che ha una più ampia visione su vari ambiti e vari settori. E inoltre un altro concetto molto importante presente sia nelle comunità naturali sia nella società è quello dei mercantismi di retroazione, quindi il famoso feedback che permette di mantenere, di regolare, di mantenere un equilibrio in equilibrio delle comunità. un esempio di feedback che si può avere nella società, nella società industrializzata è quello della risorsa, si crea un bene, il bene viene consumato e quindi si crea uno scarto. Un esempio di feedback che può mantenere un equilibrio è lo scarto viene riconvertito in risorsa. Questi feedback sono continui anche in natura e garantiscono la sua stabilità. Quindi continuando sempre a paragonare la civiltà e il sistema naturale possiamo dire che non sono un organismo che deve necessariamente crescere, maturare, invecchiare e morire, ma sia la civiltà che il sistema naturale sono caratterizzate sono caratterizzate da tre fasi di crescita e di sviluppo. La prima fase è la fase giovanile che è una fase di indipendenza, ossia si arriva a colonizzare o a crescere socialmente in una fase indipendente, quindi indipendente dal contesto circostante, ma sfruttando solo il proprio potenziale. La seconda fase diventa una fase di dipendenza, una fase più matura, in cui si raggiunge un limite massimo e si inizia a diventare dipendenti dal contesto, quindi dalle risorse o da tutto il contesto che circonda il sistema. Infine la terza fase, quella a cui si dovrebbe aspirare, è una fase di interdipendenza in cui si dovrebbe raggiungere una coesistenza equilibrata e stabile, che questo non vuol dire non dinamica, tra il contesto e il sistema. Un esempio di interdipendenza vista nel piccolo sono le reti trofiche, le reti trofiche che sono l'interazione tra le catene alimentari, ogni sistema è caratterizzato con naturale, è caratterizzato dalle reti trofiche, che come si può vedere nell'immagine sono dei link che rappresentano l'interazione che avviene, l'interazione di trofiche, quindi di alimentare, che avviene tra le varie specie. In queste varie specie ovviamente c'è anche l'uomo, poiché è un predatore terminale come può essere la colpe. Dal video, che è una simulazione di quello che accade in natura, in quella base i pallini rossi sono le risorse, la parte intermedia è rappresentata dai consumatori primari e all'auce ci sono i consumatori secondari, in cui c'è anche l'uomo. Fatta una simulazione da processi che avviano in natura, si tolgono, vengono tolti le specie che sono più interconnesse tra le altre e si può vedere come alla mancanza di queste specie l'intera struttura crolli, possa crollare, cosa che succede in natura e che potrebbe succedere anche all'uomo, poiché se vengono tolte, se si estinguono delle specie fondamentali e molto interconnesse, l'intero sistema crolli. Quindi, avendo dato un piccolo assaggio di quello che può essere la conoscenza, la consapevolezza che l'uomo si trova all'interno del sistema e ci deve essere una coesistenza tra tutte le parti del sistema. Possiamo dire che abbiamo voluto tracciare un triangolo che ci porta, attraverso l'ispirazione e la conoscenza, la formazione di una coscienza collettiva, una consapevolezza collettiva che non prescinde dall'etica e che non prescinde dal rispetto e anche dall'innovazione. Ci piaceva lasciarvi con una certezza, perché spesso le conferenze sull'ecologia finiscono in maniera catastrofica e tra le varie certezze negative sicuramente c'è una certezza positiva che è la nostra fede, perché la fede è capace di aprire il futuro e di dar senso alla vita, imprimandone una direzione che dalla sofferenza e dalla contraddizione la porta al compimento di azioni valide. Allora la sua utilità risulta evidente. Tale fede, così come la fede in se stessi, negli altri e nel mondo che ci circonda, è utile alla vita. Grazie. Applausi Grazie Grazie.